Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi all'avvio di Once You, ma che non si avvia, quindi in questo caso può essere che ci sono problemi nella sua cartella, quindi mancano dei file, oppure l'antivirus blocca direttamente un'applicazione, quindi non lo fa apposta, però blocca qualche file e quindi il gioco non si avvia. Può essere anche che puoi disconnetterti così dal tuo account Steam, rifare di nuovo l'accesso e riprovare così ad avviare il gioco. Ora se premo il gioco, mi dice che si è verificato un errore durante l'avvio, quindi manca qualcosa nella sua cartella, quindi chiudo direttamente qua, vado direttamente sul mio antivirus, quindi sicurezza di Windows Defender, ci clicco sopra. Faccio protezione da virus e minacce, vado su gestisci impostazioni, esclusione, aggiungi o rimuovi esclusione, una volta fatto aggiungi un'esclusione, vado nella cartella, vado su volume E, vado nella libreria di Steam, quindi se lo tieni su Epic Games è la stessa cosa, quindi vai a prendere direttamente la cartella del gioco. Ed ecco, once you move, direziono la cartella e lo aggiungo qua dentro, così facendo l'antivirus non romperà più le scatole al gioco su Steam o Epic Games. Chiudo un attimo qua e vado su questa rotella, faccio gestisci, faccio direttamente qui su proprietà, vado su file installati e faccio la verifica integrità dei file del gioco. E non mi resta che aspettavo. Dopo aver fatto così la verifica, sta facendo l'aggiornamento del gioco. Ed eccolo qua. Chiudo qua, faccio gioco. Il gioco, se è anche eseguito come amministratore, si sta avviando senza nessun problema, quindi ho risolto il problema sull'avvio di once you move. Quindi il gioco si è avviato. Se ti è stato utilissimo questo tutorial, iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.